allora ciao a tutti io mi chiamo luca vivo a milano ecco oggi sono dieci mesi sette giorni e dodici ore che non faccio consulenza e devo dirvi anche un'altra verità cioè che ecco io una volta una sera durante il lockdown era un po depresso stavamo era già due mesi che stavamo in questo bilocale piccolissimo e niente io ci sono cascato c'è stata quella sera in cui io girava rigirava davanti al computer c'erano questi mail di richiesta di preventivo io l'ho mandata ecco questo ve lo devo dire però insomma successo sono quelle cose che fai e che speri di dimenticarti un attimo dopo ma mi sento comunque oggi abbastanza pulito e sono contento di fare questo questo intervento ora posso capire che in un freelance camp cominciare diciamo così un intervento possa sembrare strano allora ho pensato forse il caso che cominci la mia storia dall'inizio all'inizio è la l'inizio la mia storia è la classica storia di un bambino freelance che nasce a palermo negli anni 80 anche la di positiva un bambino negli anni 80 che nasce a palermo in un quartiere di periferia quando nasci a palermo negli anni 80 in un quartiere di periferia due sono le cose che ti possono succedere la prima è che finisci per essere arrestato per spaccio e la seconda se ti dice bene che finisci a lavorare in un call center io in realtà non ho fatto nessuna delle due cose ancora oggi mi chiedo come mai ma insomma la vita è lunga il destino prima o poi probabilmente busserà alla porta nel 2007 nel lontano 2007 apro la partita iva mi trasferisco a roma e comincio a cercare lavoro da freelance e all'epoca nessuno in realtà cercava dei freelance e mi proponevo come web designer freelance e mi ricordo che facevo i miei pitch cioè rispondevo alle aziende che cercavano che volevano assumere qualcuno e andavo lì a convincerli quanto fosse conveniente invece lavorare con un freelance insomma ci ho messo un po ma poi alla fine questa cosa ha dato i tutti e alla fine ha cominciato a lavorare con una start up che si chiama che si chiama memopal mi sono dimenticato una slide importantissima di trasferimento a roma questa fa ridere di meno perché ma lo sapevo già però e quindi comincio comincio a lavorare con questa azienda si chiama memopal e praticamente praticamente per farla breve un clone un concorrente di dropbox e all'epoca cominciamo a lavorare in con un'azienda che prende una vagonata di milioni di euro e dice al web design di turno tieni queste sono le chiavi del nostro sito fai tutto quello che vuoi ed è stato un periodo bellissimo un periodo che però è durato più o meno due anni e con passare il tempo ho capito che due anni è il tempo massimo in cui riesco con convinzione a fare le cose dopo che è un po mi scoccio e all'epoca capì che dopo due anni capì che qualcosa non stava andando bene e la cosa in particolare che mi dava più fastidio è che io in solo due anni dopo aver studiato tanto mi rendevo conto che ero che ero il massimo esperto di design all'interno di quell'azienda e questa cosa io non la sopportavo cioè ma mi dicevo ma è possibile che io non riesca a imparare da nessun altro qui e allora all'epoca diciamo la conclusione a cui arrivai è che era colpa dell'Italia ora forse è un po' azzordata questo salto però all'epoca ero convinto così e quindi quello che feci fu trasferirmi all'estero e andai a Londra e lì cominciai eh no lì perché pensavo che non facesse ridere più a quel punto ho detto l'ho tagliato ehm trasferendomi a Londra eh cominciai quello che oggi viene chiamato ehm nomadismo digitale ma all'epoca nessuno lo definiva così e cominciai a lavorare con aziende locali a volte da casa a volte in ufficio ehm con soprattutto con aziende di prodotto con aziende con start up eh fu un periodo molto burascoso alla mia vita in cui più o meno in 3-4 anni 7 per 2 anni a Londra, 3 mesi a San Francisco, un mese a Berlino, un mese in Australia e poi sono ehm per poi trasferirmi nella ridente Milano ehm scusate che ride sì eh benissimo ehm e quindi in questo periodo abbastanza burascoso in cui in cui lavoravo appunto come nomad digitale una cosa che capì che capì tantissimo e che mi fu chiarissima ehm lavorando all'estero e che all'estero con questo lavoro fai un sacco di soldi e questa cosa fu per me una scoperta c'era come che ne so quando un giocatore della serie C o della serie direttantistica capisce che magicamente esiste anche la serie A e magari di punti in bianco viene buttato nella mischia a giocare la Champions League era più o meno questa la sensazione e c'è un episodio iconico di quanto fosse diverso con l'ambiente lì che mi piace tantissimo raccontare che è più o meno questo mi ricordo che feci un colloquio con un'azienda e allora io venivo da Roma e all'epoca mi facevo pagare 30 euro l'ora e non vi dico la fatica per aggiungere questa cifra, il sudore, il sangue per arrivare a questa cifra quando atterrai a Londra la primissima cosa che notai è che tutti quelli attorno a me in realtà avevano delle tariffe molto più alte e quindi io, bello spavaldo, la prima cosa che feci atterrando è che magicamente la mia tariffa era quasi raddoppiata e allora mi ricordo questo colloquio in cui quello mi disse, va bene, qual è la tua tariffa oraria e io dissi, spavaldo, guarda, io non mi muovo con meno di 50 stelline l'ora e lui ridendo mi disse, ti consiglio di chiedermi almeno 80 lì capì che con sto lavoro io ci potevo fare un sacco di soldi ma soprattutto che fino a quel momento in realtà stavo facendo una tariffa da poveraccio purtroppo però, diciamo, dall'altro lato della medaglia è che erano più o meno passati due anni in cui poi a un certo punto sbrocco e quindi, diciamo, stava cominciando qualcosa di negativo mi stava arrivando in mente e in particolare non stavo più apprezzando una cosa che invece probabilmente qui noi tutti conosciamo che è la libertà ora, sulla libertà voglio fare un bellissimo preambolo che è questo noi tutti i freelance amiamo la libertà prendiamo dei lavori in nome della libertà scegliamo dei clienti in nome della libertà vogliamo lavorare quando vogliamo quanto ci pare, come ci pare in pigiama, in ciabatte, come ci pare e questo, cioè, attorno abbiamo un ecosistema di gente che invece lavora in tutt'altro modo e che non ci capisce e allora io oggi dirò delle cose che voglio fare la permessa che rispetto tanto chi col passare degli anni, nel tempo, poi si è costruito la sua routine lavorativa e si sente libero io però, all'epoca, non mi sentivo libero e non sapevo esattamente cosa andasse storto in questa carriera anche perché più o meno potevo lavorare da ovunque e tutti i miei amici attorno a me mi dicevano ah, quanto sei fortunato che puoi lavorare dall'Australia ma tu non lavori mai le cose classiche che si dicono a chi fa questo lavoro e c'era una cosa, in particolare che fu per me un'epifania cioè, capigli che cosa è che non andava storto guardando una foto che sicuramente conoscete tutti che è questa qua allora, questa foto anche se non la possiamo vedere sono sicuro che tutti la conosciamo perché tutti la postano tutti adoriamo postare sui social una foto in cui dopo aver preso un aereo internazionale di 14 ore ce ne andiamo a Bali ci trasferiamo sulla spiaggia prendiamo un cocktail e ci diciamo oggi lavoro da qui tutti, lo facciamo tutti tutti ci siamo cascati vogliamo questa dopamina vogliamo sentire il brivido di poterlo dire allora, io guardavo questa foto e la prima cosa che pensavo era ma questo, ma dove cavolo ha trovato un computer che resiste con quel sole e che sta così tanto tempo senza ricaricare la batteria però questo ci porta lontano dal nostro discorso la seconda cosa che pensavo era ma davvero questo è il mio concetto di libertà? cioè, davvero io penso di poter dire di essere libero quando alla fine vado in spiaggia e lavoro? mi ricordo un po' la pubblicità che ho visto di recente sui social dove c'è uno che cerca di fare dieta allora, odora il panino di McDonald's e poi mangia il sedano e era un po' così cioè, era un po' la sensazione un po' di un po' sì ok, sei in spiaggia però, insomma non è proprio la stessa cosa e allora guardai questa foto e quello che mi era chiarissimo è che il problema di quella foto era proprio il lavoro cioè, io non volevo lavorare ora, io capisco che per uno che decide di fare il freelance e fa dieci anni di carriera internazionale ed è siciliano e lo capisci solo allora che non vuoi lavorare io penso al mio cugino Ivan cioè, bastava ascoltare il mio cugino Ivan quando ero piccolo io spero che mio cugino Ivan non vedrà mai questa registrazione ok, ok, ok per fare una citazione di un bel film io non volevo io non volevo partecipare alle feste io volevo avere il potere di distruggerle aspetta, l'ho messa apposta vada ricordati la citazione ok, quindi mi trovavo a 30 anni con una carriera alle spalle di circa insomma una decina di anni di freelancing un po' meno in realtà avevo lavorato per start-up per multinazionale avevo fatto veramente tantissimi tantissimi lavori e mi sentivo un po' come un calciatore che dopo una carriera lunghissima a soli 30 anni si sente un po' si sente demotivato non sa più che cosa fare con chi lavorare perché ormai con le storie le aveva sentite e le sentite un miliardo di volte e sapeva anche quali erano i problemi di questa professione i clienti che non ti pagano e non voglio adesso non voglio dilungarmi su questa tematica quindi avevo 30 anni avevo questa consapevolezza non volevo lavorare ci misi anni per capire qual era diciamo il modo in cui potevo costruirmi il mio modo di lavorare e non è stato facile all'epoca non c'erano i famosi guru non c'era Marco Montemagno e non c'erano tanti altri in realtà che ti vendono dei corsi dai quali guadagnano e diventano ricchi per farti diventare ricco non c'erano tutti questi no? non c'erano tutti questi ed è un peccato e quindi io in pratica dovevo un po' andare un po' a zonzo a caso a capire come potesse essere come poter configurare il mio lavoro e furono degli anni in cui adesso devo andare molto veloce ma comunque aprì delle SRL poi le chiusi c'era un socio di mezzo con cui mi si inavvocato insomma tante storie veramente brutte per capire qual era poi la configurazione e la strada che a me piacesse di più e la cosa assurda è che diciamo la soluzione a tutto questo a tutto questo pensare io in realtà ce l'avevo già e questo perché tanti anni fa 15 anni fa avevo già aperto quello che oggi chiameremo side project all'epoca non sapevo cos'era ma comunque una delle mie grandi passioni insieme all'informatica è la scrittura e quindi aprì questo sito che lavorava in una nicchia veramente assurda che è quella dei concorsi letterari io amavo la scrittura e quello che facevo 15 anni fa da totale ingenuo era contattare le associazioni e dicevo guarda io ho un sito so fare siti se ti piace promuovo il tuo bando di concorso sul mio sito loro mi mandavano il loro concorso e io li pubblicavo a mano erano centinaia di associazioni scoprì un mondo che non conoscevo e per tanti anni per tantissimi anni la cosa procedesse così senza che ci fosse un minimo di business plan prima ne parlavamo lo facevo quasi gratis e ho portato una slide che lo testimonia questa è chiaramente non so se conoscete Wordpress e in particolare WooCommerce questa è chiaramente la sezione report di WooCommerce e io per tantissimi anni le potete vedere dalla linea orizzontale praticamente questo sito non ci facevo quasi nulla anche perché non era mio interesse all'epoca mettevo soltanto diciamo gli introiti arrivavano dalla pubblicità di Google ma erano tipo 50 euro al mese cioè una cosa ridicola nel 2016 a un certo punto qualcosa succede magicamente il sito da zero quasi zero comincia a fare 4.000 euro l'anno di fatturato poco poi a salire diciamo l'anno successivo 7.000 l'anno successivo ancora 10 e quest'anno siamo nel 2020 prevedo di arrivare molto vicino ai 30.000 euro di fatturato e allora qualcuno di voi potrebbe chiedersi ma che cavolo è successo nel 2016 allora qualcuno potrebbe dire vabbè sicuramente questa è una questione di SEO i SEO che lavorano in questo settore sicuramente direbbero questo chi si occupa di web design direbbe no ma guarda qua c'è stato un restyling è ovvio che è una questione di restyling del sito la verità è che nel 2016 quello la mossa diciamo l'elemento che veramente cambiò le cose fu che io cominciai a dire no alla consulenza cominciai a non prendere progetti guardate io lo so quanto è complicato dire no ai progetti che arrivano perché comunque hai un affitto da pagare e poi ci sono c'è tutto il sistema soprattutto quello fiscale ti mette in una situazione dove praticamente ogni tre mesi devi fare dei conti ogni tre mesi e poi secondo insomma del regime ma comunque costantemente ti confronti con un commercialista che ti dice mandami le fatture e tu certo ti senti un po' cioè non puoi certo dirgli no guardi questi tre mesi non ho fatturato cioè lui ti guarda e dice ma scusami ma di che cosa stiamo parlando però però all'epoca così funzionava cioè cominciai a dire no a dei progetti difficile difficilissimo vi dico già ve lo dico ve lo anticipo se c'è qualcuno che volesse prendere un percorso simile ve lo anticipo già i primi sei mesi sono di depressione pura depressione perché non siamo abituati a non fatturare non siamo abituati a darci a dare a noi stessi il tempo che meritiamo e quindi mentre tutti sembrano che fanno un sacco di cose soprattutto se guardate facebook e vari social noi siamo lì che non fatturiamo e dopo questi sei mesi nei casi peggiori un anno a un certo punto dovete sopravvivere allora cominciano a calare un po' i soldi in banca e dovete fare qualcosa io mi ricordo all'epoca leggevo un sacco di libri c'era un libro in particolare che parlava appunto delle rendite passive e c'era insomma raccontava l'episodio di una coppia americana che pur di lavorare soltanto con le rendite passive a un certo punto andarono sul lastrico cominciarono a dormire in macchina ma loro proprio non ce la facevano cioè dovevano per forza guadagnare così questa cosa quando la lessi dissi ecco questa è la solita americanata è impossibile la classica cosa che ci diciamo perché fa di stile film ma in realtà questo è esattamente quello che feci e questa cosa funzionò cominciai a mettere più energie sul sito che all'epoca era un giocattolino e cominciai a dire ok io da sta cosa ci devo tirare fuori dei soldi ci devo tirare fuori il mio stipendio e io lo so che sto parlando di cifre veramente piccole ok stiamo parlando di cifre che non sono paragonabili anche diciamo nei miei confronti c'è anche ai tempi in cui facevo consulenza nei tempi migliori in cui facevo consulenza però sono il risultato di un modo di lavorare che adesso è molto molto vicino a quello che io voglio fare e diciamo come risultato di questo nuovo modo di lavorare io ho portato un po' di slide veloci che rappresentano un po' diciamo questa mia nuova vita questo mio nuovo modo di lavorare la prima è il covid cioè durante il periodo del lockdown tutti i miei amici stavano sbroccando perché finalmente avevano capito in che condizioni lavoriamo e io invece cioè dal lato mio a me non mi è cambiato nulla dato che non avevo bisogno di contattare di di parlare di vedere i clienti io andavo avanti per la mia strada anzi in realtà quei mesi lì quei due mesi in particolare furono i mesi in cui feci diciamo la maggior parte del fatturato praticamente doppio rispetto a quello che avevo previsto e poi quest'estate quest'estate ho fatto una cosa che non mi permettevo di fare da un sacco di tempo soprattutto senza sensi di colpa cioè io e mia moglie siamo andati via dalla Lombardia quando ce l'hanno permesso il più o meno 15 giugno e ci siamo fatti la vacanza di estate ma la vacanza come quando andavamo a scuola quindi ci siamo trasferiti in Sicilia abbiamo fatto un mese in Sicilia al mare perché io sono siciliano i miei c'erano la casa abbiamo questa fortuna poi ci siamo trasferiti un mese in Molise che lo nominiamo così magari qualcuno ci va siamo trasferiti in Molise quindi in aperta campagna per un mese abbiamo fatto ben due mesi pieni di vacanza senza sensi di colpa senza paura di come sarebbe stato una volta tornati e questa diciamo è la libertà che io ho acquisito è una libertà cioè piccola non penso nemmeno che sia per forza la cosa giusta a cui tutti dobbiamo aspirare ma per me era quello che funzionava e quest'estate ho preso questa piccola rivincita al finito del slide e io volevo concludere oggi con questo discorso io quando ho saputo che c'era il freelance quest'anno a maggior ragione insomma dopo il periodo di covid mi sono sentito quasi non lo so adesso sembra una parolona ma in dovere di raccontare questa esperienza perché io ho pensato cioè in tutta questa storia qua tutto questo percorso l'ho attivato 13 anni fa quando ho aperto la partita IVA e allora ho pensato ma metti che io sia così fortunato da beccare qualcuno che sta cominciando oggi insomma quest'anno e che ha aperto appunto la partita IVA io a questa persona ci devo parlare presentatemela perché magari questa persona come me 13 anni fa aveva già degli elementi in testa che non gli quadravano ma magari quando non ti puoi confrontare su certe cose che sono abbastanza dei tabù è molto difficile tirar fuori poi una strada che ti appartiene e che ti rappresenti ecco quindi io questa persona oggi e concludo volevo fare una domanda e vi lascio e questa domanda era se tutta questa roba qua se tutto questo percorso ti sembra una cosa azzardata strana non ti sembra fare il freelance allora allora io ti consiglio di chiederti tu sei proprio sicuro che tra 13 anni farai lo stesso identico lavoro che fai oggi e una domanda collegata a questa è se non sei sicuro allora forse è il momento di chiederti ma io chi voglio essere e che tipo di lavoro voglio fare da qui a 13 anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.